È stata una bellissima esperienza, l'ho sentito veramente a casa, accolto i ragazzi, si è creato subito un bellissimo rapporto, già ci iscriviamo, verranno presto a Roma a trovarci, quindi è stato veramente bello, bello. Quello che cercavo è stato realmente quello che ho trovato, insomma, è stata una bellissima esperienza, stanchi, doloranti, un po' del board per qui e lì, ma sicuramente contenti e soddisfatti. Il gruppo, con il senso di famiglia, non c'è competizione, non c'è competitività con la cattiva, cioè che io voglio prevalere su di te a discapito duro, anzi, è proprio uniti tutti insieme, cresciamo tutti insieme, prossimo step tutti insieme, mentre in altre situazioni, soprattutto nel corso istruttori, dove poi magari, no, c'è l'esame finale, c'è un po' di competizione, però quella malsana, invece qui vedo che si scambiano, fanno, si fermano anche oltre orari dove ritrovare magari le tecniche, no, quella non l'ho capita, come possiamo fare, no, bello, 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 bella situazione. Sous-titrage Société Radio-Canada